Con l'aumento delle minacce informatiche, garantire la conformità agli standard di sicurezza delle applicazioni è più importante che mai. Senza gli strumenti giusti, però, potresti non essere in grado di proteggere efficacemente i tuoi dati. Oggi, in ambito Kubernetes e in generale in contesto cloud native, esistono tool open source per l'applicazione delle policy di sicurezza, come Kiverno, Gatekeeper e Falco. Questi tre strumenti, riconosciuti dalla Cloud Native Computing Foundation, proteggono le nostre applicazioni e le rendono conformi alle standard di sicurezza. Vediamo come. Con Kiverno possiamo definire policy per gestire le configurazioni delle risorse e l'accesso ai dati sensibili. Possiamo ad esempio creare una policy che vi è dall'uso di immagini token non firmate o che impone l'uso di alcuni namespace. Possiamo assicurarci che tutte le risorse Kubernetes abbiano label specifiche per facilitare la gestione e il monitoraggio delle risorse. Con Gatekeeper possiamo applicare policy che controllano le configurazioni di accesso, come l'uso dei certificati TLS, la gestione dei token e le impostazioni di accesso ai dati sensibili. Queste policy possono essere applicate per garantire configurazioni adeguate all'interno del cluster. Ad esempio, servono a impedire la creazione di pod che richiedono privilegi elevati, bloccare le risorse che non utilizzano certificati riconosciuti e verificati, assicurando che il traffico verso le applicazioni sia criptato. Tramite Falco, invece, possiamo individuare e monitorare in tempo reale i container in fase di esecuzione e generare alert quando viene rilevata una possibile minaccia. In particolare, ci aiuta a bloccare accessi a file sensibili, bloccare l'esecuzione di comandi non previsti, intercettare eventi anche a livello di Linux Kernel. Kiverno, Gatekeeper e Falco, utilizzati insieme, ci permettono di applicare standard di sicurezza, agendo automaticamente ed evitando interventi manuali. Se vuoi rendere sicure le tue infrastrutture cloud native integrando queste soluzioni open source, contattaci.